Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Anon Manager, oggi è particolarmente solleggiato qui a Londra, sono quindi qui in quest'area della sala da prendo per evitare di avere la luce in faccia mentre giro il video. Il video di oggi è risposta a un quesito posto da Marco Valli sul gruppo di Facebook e ve lo leggo, dice Francesco dici che può essere interessante una miniserie di 2-3 video dove racconti in 5-10 minuti come ti prepari alle gare, concentrandoti su alimentazione, integrazione e allenamento. Visto che altri ragazzi hanno messo mi piace a questo topic, a questa domanda da parte di Marco Valli, altri ragazzi hanno detto che è una buona idea come Aldo Vailant, Davide Pascuzzo e Patrick Serafino, quindi ho deciso che poteva essere una buona idea fare appunto questo video veloce. Sicuramente si tratterà di un video e non di una miniserie perché penso di poter rispondere al quesito in un semplice video e poi ovviamente tutto è basato sulla mia esperienza personale che può essere ovviamente diversa da altri atleti agonisti, è basata sulla mia esperienza che consiste nella preparazione di 10 gare negli ultimi due anni e mezzo, quindi sicuramente posso dire di non essere un veterano nel campo agonistico e la mia preparazione alle gare è basata su metodologie o esperienze passate, non quelle che seguirò adesso che appunto sono seguito da un altro personal trainer, quindi non so ancora come Gabriele mi preparerà alle gare future, sicuramente quello che ho imparato dalle gare passate mi servirà appunto per migliorare, per evitare errori nelle gare future, come dovrebbe essere sempre, cerchiamo di migliorare dai nostri errori. Quindi guardando un attimo le categorie di cui si riferiva Marco, la dieta, credo di aver parlato esattivamente dell'argomento, quindi ho parlato come impostare una dieta ipocalorica per cercare di ridurre la massa grassa e preservare il più possibile la massa magra, ovviamente questo consiste in una graduale riduzione delle calorie nel tempo e cercare di raggiungere l'obiettivo che può essere appunto il giorno della gara o la settimana della gara con calma, senza correre, perché comunque un drastico calo di peso corrisponde sempre per un altro volibile anche a una perdita forte di massa magra, comunque un mantenimento di percentuale di massa grassa durante l'anno piuttosto costante, quindi per evitare di fare delle corse. Poi consiglio personale basato sulla mia esperienza, è sempre meglio aggiungere quattro settimane, sei settimane in più rispetto al tempo pianificato per raggiungere il proprio obiettivo, piuttosto che quattro settimane, sei settimane in meno, perché non si sa mai cosa, ci possono essere sempre qualche intoppo nel percorso, soprattutto se si tratta delle prime gare, quindi si conosce meno il proprio corpo, il proprio organismo, quindi è meglio arrivare due o quattro settimane prima, nello stato di forma per la gara piuttosto che due o quattro settimane dopo, quindi questo è un consiglio. Poi l'altro discorso era anche quello delle cariche e ricariche, sicuramente le ho fatte anch'io, ci sono anche video su questo canale, soprattutto i primi anni dove provavo questa metodologia, sinceramente non mi sento di suggerirla come metodologia per raggiungere lo stato di forma per una gara, perché comunque sono sconvolgimenti molto forti per il nostro organismo, è sempre meglio avere una dieta bilanciata costante con appunto un graduale riduzione di calorie e diciamo una magari diverso bilancio dei macros, quindi tendente magari più alle proteine grassi piuttosto che ai carboidrati o viceversa, dipende ovviamente dal metabolismo, nel mio caso è sicuramente più proteine grassi che diciamo carboidrati. Però un'altra cosa interessante che magari va controcorrente è il discorso dei cheat meal, che sicuramente devono essere più frequenti in un periodo di preparazione alla gara, per il semplice fatto che parliamo sempre di diete protratte per mesi, per esempio l'anno scorso sono stato in dieta per nove mesi, in dieta ipocalorica, quindi in questi periodi dove si mantiene una dieta ipocalorica per periodi molto lunghi, ovviamente c'è un rallentamento del metabolismo e quindi è importante avere una tantum, questi cheat meal o questi giorni con surplus calorico proprio per riattivare per rivitalizzare il metabolismo e per poter riuscire a proseguire nel cammino. Molti pensano che la perdita di peso per un altro bodybuilder quando si prepara una gara sia esattamente così e che la perdita di peso sia solamente di massa grassa, in realtà per un altro bodybuilder la perdita di peso dovrebbe essere in questo modo, ovviamente abbiamo dei periodi in cui siamo stazionari, poi scendiamo un po' stazionari, scendiamo un po' stazionari fino a raggiungere l'obiettivo e per questo bisogna alternare i periodi di mantenimento, quindi dove si mangia in una dieta normale, quasi da off season, con periodi invece di deficit calorico proprio per riuscire a diciamo evitare un rallentamento del metabolismo, perché un rallentamento del metabolismo ovviamente è un forte ostacolo al nostro risultato. Poi l'allenamento, l'allenamento anche questo magari è controcorrente perché molti pensano che esista un allenamento per la massa, un allenamento invece per il cutting o per la dieta o per il periodo estivo, diciamo che questa è una leggenda metropolitana e un'altra leggenda è che appunto d'estate bisogna fare più serie, bisogna stare di più in palestra perché ovviamente la concezione e l'associazione con il cardio più corri più bruci, allora più stai in palestra e più lavori con i muscoli, più i muscoli diventano taglienti o più crea i tagli nei muscoli, abbiamo parlato anche sulla sagra dei luoghi comuni in palestra come diciamo una delle leggende popolari che popolano gli spogliatori delle palestre. In realtà per un altro lavoro di builder quando è in preparazione a gara, quando ha una dieta ipocalorica, meno tempo passi in palestra meglio è, quindi sicuramente invece di fare un'ora, un'ora e mezza, 3-4 volte a settimana come magari in un periodo off season, cercare di tenere sessioni da 30-25 minuti 5 volte a settimana con una altissima intensità proprio per evitare un aumento di cortisoleo e ancora cercare di preservare più possibile la massa magra. Poi per quanto riguarda sottoscritto non è un grosso problema, devo dire che sono fortunato da questo punto di vista, non avverto mai grandissime perdite di forza quando sono in ipocalorica o in preparazione alle gare, anzi cerco di mantenere sempre gli stessi pesi dell'off season proprio per preservare la massa magra, però so che appunto alcuni che magari hanno una dieta più basata sui carboidrati diciamo avverte questo calo di performance in palestra in una fase di dieta ipocalorica. Bisogna stare attenti perché a volte è suggestione, quindi io personalmente mi trovo molto bene invece quando seguo una dieta povera di carboidrati sono sicuramente più lucido, riesco ad avere una miglior connessione mente e muscolo, quindi fateci veramente attenzione e non fatevi prendere dalla suggestione o non ho mangiato i carboidrati quindi spingo meno perché sono veramente bullshit, non c'è nessun fondamento scientifico che dica questo, quindi fateci veramente attenzione. Poi ovviamente esistono persone invece che hanno un metabolismo che è più favorevole ai carboidrati e sicuramente questo calo di performance lo avverte. Poi un altro suggerimento che darei per preparare nella gara è quello delle pose, quindi pose, 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 soprattutto se si tratta della prima gara cercate di cominciare a imparare o provare le pose anche mezz'ora al giorno, 8 settimane, 10 settimane prima della gara, è particolarmente importante e io stesso devo migliorare questo perché sono sicuro che riuscirei a valorizzare di più i miei punti forti e magari a nascondere con le pose alcuni miei punti deboli, ne parlavo anche l'altro giorno su gruppo di Facebook, vedendo anche alcuni atleti americani natural qui a body power, ho visto come appunto l'arte del posare, il bodybuilding è un'arte dell'illusione, quindi l'arte del posare aiuta moltissimo a cambiare la fisionomia, l'estetica di un fisico e quindi a valorizzare quelli che sono i propri punti forti. Poi senza considerare che le pose sono fondamentali o le isometriche, quindi queste contrazioni isometriche sono fondamentali per migliorare la qualità muscolare e la vascularizzazione, quindi soprattutto sotto gara sono veramente importanti. Poi l'altro topic di cui parlava Marco erano gli integratori e devo dire che purtroppo, devo deludervi qua, devo dire che non c'è nessun integratore per la definizione o per il cutting, ho provato anch'io moltissimi integratori, devo dire che ho provato più o meno tutto la prima gara, i termogenici, i diuretici naturali, ma sono veramente soldi spesi male, non esiste nessun termogenico con capacità di migliorare, di accelerare l'incenerazione del grasso, di essere selettivo e bruciare il grasso piuttosto che la massa magra. La soluzione sempre per raggiungere uno stato di forma ideale è quello della dieta ipocalorica portata nel tempo, senza esagerare, senza cali drastici di calorie. Poi i termogenici veramente sono soldi spesi male, quindi cercate, ve lo dico, uno che ne ha spesi parecchio di soldi, quindi cercate di risparmiarle e spenderele altrove. Se devo consigliare un paio di integratori, magari per il periodo pregara, forse il citrato di potassio e diuretici naturali come la pilosella, la betulla, possono aiutare magari a rimuovere gli eccessi di acqua, soprattutto quando si fanno cariche e ricariche di carboidrati, però ecco, questa è un'altra cosa, ho provato anch'io le scariche e cariche di carboidrati, scusate, e diciamo ci sono anche video qua su YouTube dove spiego questa metodologia, però sinceramente non mi sento adesso di suggerirle come la metodologia migliore per riuscire a raggiungere il proprio obiettivo, perché comunque comporta degli sconvolgimenti nell'organismo e degli sconvolgimenti ormonali ugualmente, quindi sono più propenso a suggerire una dieta bilanciata, protratta nel tempo con questa riduzione calorica, piuttosto che le scariche e le cariche, ovviamente evitando le scariche e ricariche non c'è neanche bisogno appunto di poi prendere diuretici naturali o potassio per eliminare l'acqua in eccesso, perché comunque si mantiene un'omeostasia, un equilibrio che poi è l'equilibrio di tutto l'anno, che poi va anche a essere l'equilibrio quando appunto si è sul palco. Questo porta a un altro argomento che è quello dell'acqua, quindi anche qui ci sono diverse diverse metodologie o diverse tattiche, soprattutto i giorni poco prima della gara, quindi c'è chi taglia l'acqua o elimina l'acqua completamente, chi invece beve fino a 10 litri 5 giorni prima e dopo poco e niente dopo. Questo sicuramente aiuta, nel senso che quando bevi molto e poi dopo riduci, il corpo continua a buttare fuori acqua quando riduci comunque il quantitativo d'acqua, perché ovviamente è abituato o si è sincronizzato su quel quantitativo di acqua che ha introdotto precedentemente. Però diciamo il taglio dell'acqua, la riduzione drastica, queste scariche e cariche d'acqua sono veramente inutili, bisogna considerare che l'80% della massa magra è comunque composta da acqua e quindi per un altro lavoro di builder, eliminare l'acqua è veramente deleterio, stiamo parlando di atleti che assumono sostante anabolizzanti, o steroidi o diuretici, di quelli pesanti farmacologici che diciamo nel tentativo di raggiungere uno stato di forma eccezionale, completely shredded, completely crisp, possono appunto tagliare l'acqua e poi appunto gli steroidi comunque danno ritenzione idrica per un natural, togliere l'acqua è deleterio perché capite benissimo che l'80% della massa magra, dei muscoli composta da acqua, togli l'acqua, sullo stage risulti piatto, vuoto e sgonfio e sicuramente non è un bel vedere, ve ne parlo ancora per esperienza, ho fatto gare in questo stato e sembravo diciamo più uno spaventapassare quindi non mi riconoscevo nemmeno, adesso appunto che sono off-season guardando quelle foto non sembrano neanche io. Poi questo porta all'altra topia, il discorso del sale quindi molti anche qui aumentano il sale, riducono il sale, come ho parlato in un altro video l'importante è mantenere un'omeostasi per quanto riguarda i minerali, sia il potassio che il sale, quindi non esagerare, mantenere sempre la stessa quantità a cui si è abituati durante l'anno. Un natural bodybuilder diciamo non è un bodybuilder di quelli mister Olimpio quelli diciamo che vediamo appunto assumere steroidi, un natural bodybuilder deve essere è uno stile di vita anche appunto perché mantiene il suo stato di forma durante tutto l'anno quindi non ci devono essere particolari sconvolgimenti le settimane prima della gara e diciamo che questi cambiamenti drastici magari anche nell'assunzione e nell'introduzione del sale sono quelli che portano alla ritenzione idrica, quindi alla ritenzione idrica sottocutanea quindi sia aumentando che diminuendo il sale perché comunque l'importante per il corpo è l'importante è mantenere questo equilibrio, questa omeostasi, quindi se si vanno a fare questi cambiamenti diciamo non è il massimo. E poi il discorso dell'acqua, del sale ecco è anche relativo appunto al veicolaggio del glicogeno nei muscoli, ovviamente molti tagliano l'acqua diciamo prendono un casino di sale proprio poco prima della gara e in questo modo ovviamente la ricarica dei carboidrati o comunque un surplus di carboidrati che avviene i giorni prima della gara non va a finire nei muscoli perché ovviamente i carboidrati hanno bisogno di acqua per essere veicolati, quindi se ovviamente non c'è acqua quei carboidrati diciamo non vanno dove dovrebbe andare, quindi attenzione ancora a eliminare l'acqua e fare cose strane con il sale. Poi l'ultima cosa sono le altre diciamo tattiche che magari sono state descritte anche da Kevin Lebron o diciamo Colemano, altri campioni che appunto non so bere il grappino, bere la vodka prima della gara. Ho provato anche questo, ho provato la pizza, ho provato roba salata e tutto. Sinceramente diciamo non tornerei a rifare queste tecniche, queste pratiche perché diciamo il risultato è diciamo nullo e se anche c'è un miglioramento è veramente rischioso mettere a repentaglio settimane e settimane di preparazione provando queste cose diciamo strambalate un po' così diciamo leggende che si sono tramandate in anni e in anni. Ripeto per un altro bodybuilder è diverso rispetto a un atleta che assume steroidi o sostantano validanti, per un altro bodybuilder l'equilibrio e quindi natural come stile di vita è fondamentale e quindi non c'è bisogno di fare cose straordinarie ma progressivamente pianificare tutto per tempo, questo è l'obiettivo, questa è la data della gara, ok comincio la dieta ipocalorica, riduco le calorie, cheat meal per diciamo riattivare il metabolismo finché appunto si arriva all'obiettivo. Poi l'ultima settimana dovrebbe essere una settimana in discesa, non è la settimana dove si fanno cose strane o cose strampalate, è la settimana dovrebbe rilassarsi il più possibile, gambe all'aria, cercare di pensare alla gara, ricordare le pose, ricordare la routine e prenderla proprio come un divertimento, dovrebbe essere un piacere salire su quel palco e veramente mettere in gioco tutto quello diciamo che si è costruito in un anno o due anni o nella propria preparazione. Quindi questo è tutto, guardiamo quanto tempo ho fatto, sono quasi 20 minuti ok, è un bastante lunghetto, forse aveva ragione Marco. Comunque questa è la mia opinione, questa è la mia prospettiva sull'argomento, se avete altre diciamo usanze o altre tattiche di preparazione alla gara fatemi sapere, sono felice di provare o di condividere con voi anche altre diciamo altre idee, altre tattiche e strategie. Fatemi sapere se vi piace il video, ricordatevi di iscrivervi al canale, di condividere il canale, il video anche con i vostri amici, di visitare le pagine di Facebook, quindi il gruppo di Iron Manager, MySup è la sagra dei luoghi comuni in palestra. E questo è tutto da Fran, grazie e ciao! Grazie a tutti!